Il gruppo che organizza l'evento è un gruppo di persone consciente del valore della naturalezza. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. e il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. Il gruppo che organizzano l'evento è un gruppo di persone. è un gruppo di donne di persone.